Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del nostro telegiornale dedicata ai funerali del giovane gelese Nuccio Eraci che sono stati celebrati nel pomeriggio di ieri in Chiesa Madre, decine i giovani presenti tra amici e compagni di scuola che hanno indossato una maglia con la foto di Nuccio. Vediamo. C'erano i compagni di scuola con le t-shirt con su stampata la foto dell'amico che non c'è più. C'erano gli amici di gioco, c'erano tutti ieri pomeriggio e funerali di Nuccio Eraci, 15 anni, deceduto dopo 21 giorni di agonia all'ospedale di Palermo, a seguito delle gravissime ostioni riportate il 23 febbraio scorso quando fu colpito dalle fiamme che si sono sprigionate mentre stava accendendo utilizzando una bottiglia di alcol, un bracere. I funerali sono stati celebrati in Chiesa Madre da Monsignor Grazia Labiso e da Don Luigi Petralia. In prima fila la mamma Giuseppa, il padre Giuseppe, il fratello gemello Bartolomeo e i nonni. Sulla bara bianca del giovane studente della terza A dell'Istituto per Geometri Majorana è stato poggiato un cuscino di rose bianche e poi attorno al feretro tanti altri fiori bianchi. Rimarrai sempre nei nostri cuori, rascritto sulle t-shirt indossate dagli amici. Nuccio, ha detto Monsignor Labiso, non se n'è andato quella mattina in quel letto d'ospedale dove era ricoverato. Rimarrà sempre fra noi. Al termine del rito funebre, i suoi compagni di scuola hanno fatto volare tanti palloncini bianchi mentre la mamma abbracciava un cuscino bianco con impressa la foto del figlio. Dopo 30 anni, i disabili potranno accedere ai servizi sociali al piano terra. È intesa su diversi fronti tra l'assessorate servizi sociali del Comune di Gela e l'associazione H presieduta dall'avvocato Paolo Capici. Vediamo. È stato aperto al piano terra della sede centrale di Viale Mediterraneo un ufficio dell'assessorate servizi sociali del Comune di Gela. È quanto hanno disposto il sindaco Domenico Messinese e l'assessore Licia Abela accogliendo la richiesta dell'associazione H di Paolo Capici. I locali accessibili senza barriere architettoniche eviteranno disagio all'utenza che ha problemi di deambulazione. Tutto questo è stato possibile anche grazie e soprattutto alla richiesta dell'avvocato Paolo Capici. Noi ci siamo fatti promotori perché il nostro è uno spirito rivolto verso le fasce più deboli, verso le fasce che hanno bisogno e necessitano giustamente di tutela e di rispetto. A me, come ho avuto il piacere di ribadire diverse volte, l'avvocato Capici rappresenta una risorsa e quindi io sono al suo fianco e lui al mio per lavorare insieme, per trovare insieme le soluzioni perché vogliamo essere vicini alle persone che ne hanno bisogno. Sono 30 anni che facciamo questo tipo di richiesta e quindi dobbiamo dare merito all'assessore Abela che ha sposato non a parole ma a compatti la nostra causa e abbiamo acquisito la dignità di essere ricevuti a piano terra o in un locale dove c'è un ascensore e quindi le persone con disabilità, anziani, possono tranquillamente aspettare in un corridoio comodamente dove ci saranno anche penso delle sedie e delle poltroncine e questo è un passo di civiltà oltre che essere anche un passo di legalità perché noi ci dobbiamo muovere in entrambi i fondi sia della legalità ma principalmente della civiltà perché la civiltà è quella che ci dà più dignità. Abbiamo sempre grazie all'assessore sbloccato il trasporto speciale, abbiamo sbloccato il trasporto scolastico e penso che l'assessore lavorerà ora con noi dopo che abbiamo fatto come dire l'emergenza per dare un volto diverso alla volontaria dal terzo settore perché sono beni che ci toccano e che sono molto più importanti di quelle che abbiamo affrontato. Chiarimenti arrivano da parte del primo cittadino Domenico Messinese riguardo ai pagamenti dei lavoratori del reddito minimo di inserimento. Le dichiarazioni del sindaco ai nostri microfoni. Sentiamo. Abbiamo dato mandato di effettuare il pagamento nel mese febbraio per 60 persone che hanno presentato i documenti che consentono di accedere a questo servizio e chi è che invece non lo ha presentato l'abbiamo sospeso. Ci sembra corretto per le persone che hanno seguito le regole. Di conseguenza io vorrei ricordare che questo è un reddito, un contributo che viene dato per persone che hanno delle difficoltà, una specie di ammortizzatore sociale a tutti gli effetti, però per poterci accedere hanno bisogno di determinate caratteristiche. Quindi il Comune non tollererà che nessuno venga a manifestare davanti alla propria porta perché prima di potersi lamentare debbano fare il loro dovere, ovvero sia recarsi agli uffici, presentare la documentazione e nella documentazione si è attestato che vengono rispettati i parametri per poter accedere a questo contributo. Di conseguenza nessuna strumentalizzazione, cerchiamo di poter sbrigarci per poter portare questa orientazione, nessuno è stato escluso ma sospesi. È chiaro che se poi in primis chi è che deve avere questo contributo non si attiva non può venire sicuramente a lamentarsi davanti alle porte del Comune. Tra l'altro, noi sappiamo che a Gela ci sono tutta una serie di problematiche che non sono soltanto quelle dell'RMI, ma in modo molto orizzontale si tratta di molte fasce di lavoratori che sono molto molto di più. Infatti noi per questo giorno 14 saremo a manifestare nella città di Ricata per il problema agricoltura. Stiamo facendo un accentramento di tutti i comuni della parte di Caltanissetta e dell'Agrigentino. Abbiamo voluto fare questa manifestazione proprio allicata perché ad ottobre è stata colpita da una trompa d'aria. È il giorno 14 perché è il giorno in cui a Bruxelles vanno a firmare accordi che riguardano l'agricoltura. Cambiamo decisamente argomento. Il corso a lezione di difesa personale è un progetto avviato dall'Istituto Luigi Sturzo di Gela diretto da Grazio Di Bartolo. Il corso ha avuto il suo esordio proprio nella giornata di ieri dedicata alle donne. Vediamo. Migliorare la consapevolezza della possibilità di uscire in columi dall'attacco fisico di uno o più sconosciuti. È l'obiettivo di un progetto che prevede lezioni di autodifesa proposto agli studenti dell'Istituto Luigi Sturzo di Gela. Le lezioni saranno ottenute dal maestro di Winsu Kung Fu, Nunzio Nastasi. Quali saranno i primi insegnamenti che impartirà ai ragazzi? Cercherò di rendere loro coscienti delle proprie virtù. E poi in queste dieci ore cercherò di dare il massimo per portarli a un grado di difesa e di automatismi per la vita quotidiana. Qual è la prima cosa che non bisogna fare quando ci si trova di fronte ad un aggressore? Innanzitutto cercare di scappare lasciando le spalle all'avversario. Entriamo nel suo meccanismo di assalto. Quindi lo si affronta ma con delle tecniche ben precise? Certo, certo, certo. Creando appunto questi automatismi che dovranno venire in automatico. Come mai per la festa della donna si insegna alle ragazze e ai ragazzi a difendersi? Quest'anno abbiamo pensato di festeggiare questa giornata con un'iniziativa concreta che riguarda appunto questo corso di autodifesa per le ragazze ma anche per i ragazzi che vogliono partecipare. È un momento importante. Abbiamo il dovere come scuola di insegnare alle ragazze anche come difendersi in occasioni spiacevoli che possono capitare a tutte. Io l'ho fatto questo corso e devo dire che ne ho avuto tanto aggiovamento e quindi ritengo che le giovani ragazze debbano seguirlo in maniera attenta e puntuale. In quanti hanno aderito e cosa pensano? I ragazzi hanno reagito in modo entusiasmante. Io non mi aspettavo che più di 100 persone dicessero tra i nostri alunni vogliamo frequentarlo e vi ringraziamo perché il corso è assolutamente gratuito. Ogni anno ho l'abitudine per la festa della donna l'8 marzo di regalare ad ogni classe un mazzetto di mimose. Lo faccio anche quest'anno e quest'anno aggiungo con la mia proposta quest'altro mazzetto grande di mimose. Come mai avete scelto di partecipare a questo corso? Beh, questa è un'esperienza più unica che rara. Il fatto che la scuola ci dia questa opportunità gratuitamente è una cosa che non fanno tutte le scuole. È molto gratificante il poter partecipare al giorno d'oggi a queste cinque lezioni di autodifesa. Ringraziamo la scuola per questa opportunità che ci sta dando. La cronaca di ogni giorno ha influenzato la vostra scelta? Anche. Un percorso di autodifesa è un contributo alla loro crescita. Si parla oggi tanto di stalking, si parla di violenza fisica, violenza sessuale, tant'è che le statistiche dicono che in Italia una donna su tre è vittima proprio di queste violenze. Quindi la scuola dà un contributo, anche se il progetto non ha nulla didattico. Quindi è qualcosa che dimostra come la scuola aiuta questi ragazzi a crescere socialmente e dal punto di vista personale. Fervono i preparativi a Gela per accogliere un concittadino illustre di grande successo per avere fondato un'azienda leader nel mondo nel settore dei pagamenti elettronici sicuri. L'evento rientra nel progetto Emigrantes, i particolari in questo servizio. Arriverà anche a Gela l'educational tour della memoria promosso dal distretto turistico Valle dei Templi nell'ambito del progetto Emigrantes. 12 turisti illustri invitati in Sicilia dei Comuni Partners visiteranno la città del Golfo venerdì 11 marzo prossimo. L'ospite del Comune di Gela, Giuseppe Caltabiano, arriva dallo Stato del Montana negli Stati Uniti d'America dove ha sede la sua azienda, una delle più importanti società al mondo che fornisce pagamenti elettronici sicuri a 19 paesi. Caltabiano, 54 anni, parla sei lingue e ha operato in cinque continenti. La sua storia privata e professionale, pur essendo stata molto intensa, non ha mai dimenticato le sue origini. Ha lo scopo, questo tipo di iniziativa, di far arrivare quelli che hanno emigrato nel tempo dalla Sicilia, i figli degli emigranti e l'interesse a visitare la terra d'origine sostanzialmente quindi con questo rapporto quasi emozionale rispetto alle terre d'origine. Anche questo fa parte del lavoro di mettere insieme varie possibilità perché come sappiamo la chiusura dell'impianto che occupava un numero importante di lavoratori adesso dobbiamo trovare delle alternative e il lavoro che stiamo facendo in maniera pressante da quando noi ci siamo insediati è proprio quello di sviluppare settori diversi dal petrochimico che sono il turismo in questo caso, l'agricoltura, l'artigianato e così via. Questa iniziativa di venerdì si inserisce in questo quadro. Verranno da ogni parte del mondo un certo numero, non tantissimi, dai 15 ai 30 persone che vengono organizzate dal distretto Valle dei Tempi che hanno questa caratteristica. Sono emigranti che ritornano nella loro terra di origine in modo da farsi testimoni ai promotori di ciò che avranno visto che probabilmente molti di loro non hanno mai visto. È prevista per venerdì 11 marzo alle 17 nei locali della libreria Mondadori di Via Marconi 25 a Gera la presentazione del libro Fiammetta di Emanuela Badessa. Dialogherà con l'autrice e il dirigente scolastico Sandra Scicolone. Nel corso dell'incontro si terrà anche una degustazione di dolce offerta dalla ditta Laimo di Delia. Sono pronte e possono essere ritirate all'ufficio di segretariato sociale del Comune di Gela le tessere di libera circolazione AST per l'anno 2016. Lo ha reso noto l'assessore comunale Servizi Sociali, Licia Abela. Le tessere danno diritto al servizio di trasporto urbano ed extraurbano agli anziani residenti a Gela che le avevano richieste dopo l'avviso pubblico delle 7 luglio scorso. Gli uffici di Viale Mediterraneo sono aperti al pubblico da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. La FIDAPA International di Gela promuove il progetto internazionale Dai luce alla pace a cura della past presidente Angela Incardona. Il progetto viene portato avanti a livello internazionale nei 98 paesi dei 5 continenti dove la FIDAPA è presente. Il progetto si propone di educare le nuove generazioni alla pace, alla comunicazione, al dialogo interculturale. Il progetto è rivolto ai ragazzi della terza media e vede coinvolti docenti di lettere ed educazione artistica. Dovranno essere prodotti un disegno che può essere individuale o collettivo con tecniche diverse, tra cui carboncino, pennarello, matita, in basso un pensiero di pace ispirato dal disegno. I disegni migliori, sei per ogni scuola, dovranno pervenire entro il 20 aprile prossimo e verranno valutati da una commissione competente. I tre disegni ritenuti più significativi verranno premiati nella giornata conclusiva che si terrà nell'ultima decade di maggio prossimo. Sono previsti premi in denaro. E' stato prorogato al 15 aprile prossimo al fine di poter usufruire della fioritura primaverile della flora dunale e il termine di consegna dei lavori relativi al concorso fotografico Le Dune Gelesi, promosso dalla Soroptimist di Gela e rivolta agli alunni delle scuole superiori con l'intento di valorizzare le bellezze e le peculiarità del paesaggio gelese attraverso le immagini. Le foto inedite devono essere stampate in formato 18x24 e salvate su supporto CD in formato JPEG con dimensioni minime di 3 MB e massime di 10 MB. Parla della Sicilia dal punto di vista femminile, il film documentario Cose di donne che sarà proiettato al Cineteatro Antidoto il 18 marzo prossimo alle 21 con ingresso gratuito. Se storie di donne che hanno in comune l'essere nata in una terra fimmina per eccellenza con i suoi miti, le sue leggende che si sono avvicendate e sovrapposte nel tempo. Il docufilm è di Lorenzo Daniele che ha vinto il premio Archeoblogger alla 26esima Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto e tra le donne protagoniste c'è l'archeologa gelese Angela Catania, presidente dell'Archeoclub Giovani. Continuano gli appuntamenti inseriti nella 82esima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica 13 marzo alle 19 al Palazzo Pignatelli, finì la Cielo 2 con Alfredo Borzi al violoncello e Tania Cardillo al pianoforte. E in conclusione della prima parte del nostro telegiornale una bella notizia. In un ospedale di Catania è nata Agata, la figlia del collega Flavio Centamore e di Teresa Peritore. La bimba pesa 2,9 kg e sta benissimo. Farà compagnia al fratello Alfredo, 4 anni, alle famiglie Centamore e Peritore le congratulazioni da parte di tutti noi. Bene, termina qua la prima parte del nostro telegiornale. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo parlandovi delle iniziative che sono state poste in essere ieri in occasione della giornata della donna. In particolare, questa è stata celebrata all'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela. C'eravamo anche noi, vediamo. Una giornata per riflettere sul ruolo della donna nella società e celebrare una commemorazione importante in onore di tutti coloro che hanno lasciato un contributo importante alla società in termini di memoria storica. Si è svolta l'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela che ha visto la partecipazione attiva di studenti e di insegnanti. Vogliamo celebrare la giornata della donna con uno spettacolo che si chiama Donna nel Tempo attraverso un reading di poesie, attraverso balli, attraverso canzoni che comunque in qualche modo ricordano e celebrano la donna nel tempo. Quindi si va dalla poesia di Dante Alighieri alle poesie dei contemporanei, dalle canzoni che poi i ragazzi conoscono, un po' tutti, che parlano di donne, anche i balli e le coreografie fatte dalle ragazze. Insomma, tutto un lavoro femminile. Noi ci esibiamo, cantiamo, recitiamo delle poesie, tutto quello che si può per divertirci, insomma. Lo scopo di questo progetto non è solamente ricordare la donna, tutto quello che è successo alla donna, ma è sensibilizzare i ragazzi a farciò che tutto quello che è successo non si ripeta più. Io sono Giorgia della Quinta Sala, oggi sarò in veste di cantante e barattrice. Questo spettacolo, a mio avviso, è uno spettacolo molto serio e molto sentito. Artisticamente Donna, si tratta della rassegna d'arte organizzata a Palazzo Pignatelli di Gela all'esordio nel pomeriggio di ieri. Siamo andati a vedere. Artisticamente Donna è una rassegna d'arte a 360 gradi per ricordare tutte le donne, per celebrarle davvero in ogni forma. Sì, essere donna oggi è una grande impresa, perché la donna non è che fa soltanto la mamma, la casalinga. Una donna riesce a fare un po' tutto, come ad esempio quella che già avete visto, quindi l'arte, quadri, cucina, si riesce a cominciare un po' di tutto, perché poi dobbiamo anche riuscire a combinare, a combaciare ciò che fa la donna a casa, quindi essendo moglie, essendo mamma, essendo un po' di tutto. La creatività è donna. Voi avete rappresentato questa mostra davvero con tantissime diverse forme creative. Sì, ho cercato di raggruppare tutte le donne di Gela e del comprensorio, tutte le donne che hanno qualcosa da dire, qualcosa da dare nel loro intimo, la loro arte. E quindi abbiamo le pittrici, le artigiane, il cucito creativo, abbiamo un ospite di Mazzarino, Elisa Garziano, che dipinge queste belle borse, adesso le potete vedere. Abbiamo avuto Sonni Raggi, che ci ha dato questo piacere di creare questa cucina art donna. E questo è il secondo anno che siamo qua, e sono stata molto felice e contenta di averle di nuovo tutte qua. Anzi, siamo di più di quest'anno. Che cosa si augura? Un augurio per tutte le donne che ci stanno seguendo. Allora, l'augurio è quello di... Io oggi ho messo una foto. Bisogna sempre... Non tirarsi mai indietro, andare avanti sempre. Comunque, di fronte anche alle difficoltà, alle problematiche della vita, della famiglia, bisogna avere lo spazio per se stessi, per poter uscire fuori anche da quei problemi, da quei pensieri che ci affliggono. Perché è chiaro che ognuno di noi abbiamo tante cose da affrontare, abbiamo le famiglie. Però io, quando mi vado a scuola di pittura, per esempio, io dimentico tutto. In quel momento non esiste più niente. E quindi è uno spazio per noi, per liberarci, per pulire la mente e dedicarci a tutto quello che a noi piace. Adesso c'è lo sport, il calcio, la Serie D è dietro l'angolo per il Gela. Mancano cinque partite alla fine della stagione. Regolare, i biancazzurri hanno un vantaggio di cinque punti sulla diretta inseguitrice, la San Cataldese. Domenica, altro impegno casalingo per il team allenato da Totò Brucculeri. Porte aperte allo stadio per gli studenti. Vediamo. Mancano cinque giornate alla fine del campionato del Gela e lì al comando della gradatoria del torneo di eccellenza. E guarda tutti dall'alto. Con tutto il rispetto per le avversarie è proprio il posto giusto dove il club biancazzurro deve stare. Lo dice la storia, lo richiede il blasone. Stiamo parlando di una squadra che ha calcato però sceni importanti come la prima divisione e che dopo tanti anni di purgatorio, dopo tante battaglie, su campi di periferia sta risalendo. La Serie D è soltanto un punto di approdo. Gela merita altro. Intanto l'obiettivo che la dirigenza si era previssata ad inizio stagione si sta materializzando. È vero, lo raccontano le cronache, che non è stato semplice arrivare in cima alla gradatoria, ma è altrettanto vero che il Gela da quando ha capito che bisognava darsi una mossa non ha più fallito un colpo e la classifica ne ha subito risentito. I biancazzurri comandano a quota 52 punti frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. Hanno un vantaggio di 5 lunghezze rispetto alla più diretta inseguitrice, la San Cataldese. Hanno 6 punti in più rispetto alla terza, il Dattilo Noir. E domenica prossima altro impegno tra le muramiche dopo quello del turno precedente, conclusosi con il risultato tennistico di 6-0 ai danni della Libertas. Al Presti sarà di scena l'atletico Campofranco, formazione che occupa una posizione di classifica tranquilla e che reduce dalla vittoria per 1-0 conquistata contro il Mazzara. Per domenica prossima porte aperte dello stadio Vincenzo Presti agli studenti. Gli alunni delle scuole medie e superiori della città potranno assistere all'importante sfida per la corsa alla Serie D acquistando il tagliando della curva Angelo Boscaia al prezzo di 1 euro. Lo speciale biglietto verrà distribuito direttamente ed unicamente domani e venerdì da alcuni collaboratori della società Bianca Azzurra che grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici effettueranno la pre-vendita. Il tagliando avrà un colore diverso rispetto agli altri titoli di ingresso allo stadio. Il gelacalcio invita tutti gli studenti a colorare di Bianca Azzurro la curva affinché sia una giornata di festa e di gioia per il calcio gelese. Infine c'è la pagina dello spettacolo è Fuoco a mare il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella Gela sono tre gli orari di rotazione della pellicola 17.30 19.30 21.30 oggi alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo nell'ambito della stagione di Cabaret è previsto lo spettacolo Tram Tram di Lasciate Libero lo Scarrozzo per informazioni 0933 911 892 oppure 345 588 580 580 580 termina qui la nostra edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione vi ricordiamo che notizie servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato grazie arrivederci